Iniziare nella ditta imprenditoriale, oltre all'azienda, scegliersi delle regole di riferimento, delle persone di riferimento, più che regole, nei vari comparti. Io ho, penso, una decina di persone che io frequento, che io regolarmente frequento. Ieri sera ero a cena con una di queste e in questo caso questa persona la frequento per le relazioni umane, cioè come migliorare le mie tecniche per migliorare le relazioni umane, per migliorare il mio livello di network sostanzialmente, ma potrebbe benissimo essere qualsiasi altra cosa, però per me queste persone sono un riferimento.